Ciao amici, sono Moreno Bianchini e oggi parliamo di Olaplex numero 8, il Bond Intense Moisture Mask. Il Bond Intense Moisture Mask è una maschera riparatrice extra concentrata che rende i capelli lucenti e corposi. Formulata con la tecnologia brevettata Olaplex, si applica dopo lo shampoo numero 4 sulle lunghezze umide. Bastano solo due pompate per i capelli lunghi fino alle spalle. Una volta creata la tua routine Olaplex, il numero 8 si inserisce nel segmento dei trattamenti, adatto a tutte le tipologie di capelli. In caso di capelli sani, usi il numero 8 una volta a settimana. In caso di capelli ricci e colorati, usi il numero 8 2-3 volte a settimana perché hanno bisogno di una maggiore idratazione. Olaplex numero 8 non sarà mai troppo. Per il massimo della riparazione a casa, inizia con il numero 0, l'Intense Bond Building Air Treatment e il numero 3, l'Air Prefector, seguendo le istruzioni. Dopo aver lavato i capelli con lo shampoo numero 4 risciacquati, applichi il numero 8, il Bond Intense Moisture Mask, per 10 minuti. Quindi risciacqui e i tuoi capelli saranno incredibili. Assolutamente sì! Tutti i capelli e tutte le texture trarranno benefici dal numero 8. I risultati si vedranno già dalla prima applicazione. Infatti il numero 8 rende i capelli più sani e più forti ogni volta che lo includi nella tua routine. Olaplex numero 8 è adatto ad ogni tipologia di capelli al quale serve idratazione. Sentirai subito la differenza una volta che inizia a funzionare il numero 8 sui capelli e diventeranno lisci e setosi. Penetra nel capello e lo rende più corposo. La sua texture leggera viene assorbita completamente dai capelli e i suoi benefici durano più lavaggi. Penetra nel suo progetto da